Nella giornata in cui ricorre il 46esimo anno dell'approvazione della legge 194 del 1978 sull'aborto, si torna a parlare di interruzione di gravidanza libera e incondizionata. A Brindisi un sit-in in cui le donne dell'associazione Non Una Di Meno, molte delle quali ragazzine all'epoca dell'approvazione della legge, manifestano contro l'emendamento che rafforza a livello nazionale l'accesso delle associazioni anti-abortiste nei consultori territoriali. L'obiezione di coscienza dunque sale sul banco degli imputati, in quanto spesso, a loro dire, trasformerebbe interi ospedali in una obiezione di struttura e allora anche da Brindisi parte l'appello alla Regione. Se c'è un'obiezione di coscienza, la Regione si deve preoccupare di sostituire quel personale obiettore con personale non obiettore. Ma noi diciamo che l'obiezione di coscienza aveva senso quando questa legge è stata approvata 46 anni fa ma oggi che il concetto di salute include anche il rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi l'obiezione di coscienza nelle strutture pubbliche non ha più senso. Quindi bisogna trovare, e ci sono i mezzi, di superamento di questo blocco. I dati in Italia del resto parlano chiaro. Almeno 20.000 donne all'anno ricorrono a strutture non autorizzate per esercitare quello che da 46 anni è un diritto di ogni donna, sottolinea l'Iaca Pera ai microfoni di Antenna Sud. Ora bisogna intervenire e si deve intervenire per evitare tutto ciò, conclude. Grazie a tutti.